Noi ci abbiamo provato, ma non ci fermiamo. Ci abbiamo provato, ci hanno detto di no, stiamo parlando di abolizione delle province e per questo abbiamo depositato questa proposta di iniziativa popolare con la quale ora raccoglieremo e raccogliamo le firme, perché noi riteniamo che sia un problema vero, che sia un problema reale. In Italia abbiamo troppi livelli istituzionali, eliminare le province permette di risparmiare qualche miliardo di euro, che in una situazione di grande difficoltà come questa, in un momento in cui si chiedono tanti sacrifici ai cittadini, è qualcosa di assolutamente necessario. Noi invitiamo tutti perciò ad andare a firmare, perché quanto più firme raccoglieremo, tanto più forte sarà la pressione che potremo fare sul Parlamento e sugli altri partiti, perché si decidano ad approvare questa misura che noi chiediamo da tempo.